Ogni generazione ha le proprie paure, le proprie ansie, le proprie fobie. Quella dei nostri nonni erano legate alla tragedia della guerra. I nostri padri si sono dovuti confrontare con i cambiamenti sociopolitici, il 68, il terrorismo. La nostra generazione ha fatto i conti con le grosse crisi occupazionali e di crack finanziari mondiali e la perdita del lavoro. Per gli adolescenti di oggi invece ce n'è una molto più subdola e figlia dei tempi per i nativi digitali. Si chiama Nomofobia, un acronimo che sta per Nomobilephobia, ovvero il terrore di non avere a disposizione il proprio smartphone o tablet e che ci fa rimanere online con il mondo e sempre più giovani ne vengono colpiti sviluppandone vere e proprie dipendenze. È stata catalogata, è stata classificata per quello che può servire per prime dagli americani, è un fenomeno che registriamo regolarmente, cioè sotto forma di piccola ansia poi a crescere fino a davvero una terrore, un'incapacità a compiere le azioni di tutti i giorni, soprattutto negli adolescenti, senza il proprio cellulare a portata di mano. E crea degli stati di ansia pericolosa. Cito un piccolo episodio, una ragazza che ha il bimodo di osservare, ricoverata in ospedale per fatti indipendenti dal telefono, da quant'altro, in ortopedia per un anno, non aveva portato con sé il telefono, era invisibile stato di agitazione psicomotoria, insomma fin tanto che non aveva avuto il telefono non si è calmata. Purtroppo uno studio osservazionale sul nostro territorio di giovani tra gli 11 e i 14 anni, primo assoluto in Europa, fatto dal Dipartimento, ha dato risultati allarmanti. Questo campione significativo, quindi della provincia di Pesaro, è estensibile a tutte le altre province che hanno una demografia simile a quella di Pesaro, abbiamo registrato un 2,2% di dipendenza, che accoppiata con l'area di rischio arriva a sfiorare il 7%, che non è poco, insomma. Di questo e di altre tematiche parlerete prossimamente, molto presto, in un incontro e dibattito aperto. Il 4 ottobre, dalle ore 18 in poi, presso il Cinema Masetti, proietteremo due cortometraggi su questo tema, in particolare uno si intitola proprio Nomofobia e racconta i fatti tragici tre anni fa a Corsi in Italia, in cui una diciassettenne uccise la mamma perché non sopportava la privazione dello smartphone. E il secondo cortometraggio si chiama Pink Elephant.